questo prodotto realizzato da linea garden friend ha conquistato una votazione di 8.4 su 10 punti totali questa è la nostra scelta migliore le sue peculiarità sono facile da montare purezza ottimo rapporto qualità prezzo stile se vuoi avere maggiori dettagli su questo prodotto vuoi acquistarlo clicca il link che trovi nella descrizione in basso del video il voto complessivo di questo articolo di blinky è di 8 su 10 è il più esclusivo di questa selezione i suoi punti di forza sono stile facile da montare ottimo rapporto qualità prezzo in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto con maggiori informazioni e prezzo aggiornato la valutazione di questo prodotto di linea garden friend è di 8.6 voti su 10 è il più desiderato le caratteristiche principali sono stile purezza ottimo rapporto qualità prezzo facile da montare puoi acquistare questo prodotto o scoprire maggiori informazioni cliccando sul link che trovi in basso nella descrizione del video il voto finale aggiudicato da questo articolo di verde look è di 8.6 voti su 10 al momento risulta essere il più regalato i punti di forza sono stile facile da montare ottimo rapporto qualità prezzo durabilità in basso nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto al prossimo episodio Grazie a tutti.